Allora, io conosco Berto da tanti anni, perché è stato anche mio studente, io insegno all'università, Bocconio e Cattolica, e devo dire che quando ha mosso i primi passi, è stata già una persona che si capiva che aveva una capacità imprenditoriale. Col passare del tempo questa capacità imprenditoriale è cresciuta. Allora, devo dire che adesso l'ho ritrovato molto più interessante, perché è una persona che ha la capacità di declinare, creatività, business, capacità relazionale e credo anche una notevole capacità di coordinamento nell'ambito dell'azienda. Ricordo che lui aveva lanciato l'e-commerce come primo step della sua nuova gestione. Ecco, questo è Berto, una persona in gamba, devo dire, dedito molto al lavoro, creativo, che interpreta molto la realtà attuale e vede l'autano.